Dalla regione 500 mila euro per le bonifiche all'ex Follador di Agordo all'istituto minerario sono state riscontrate delle contaminazioni da idrocarburi, da qui la richiesta da parte del comune di procedere con una serie di bonifiche ambientali. La delibera è stata approvata in giunta regionale ad occuparsene l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin. In passato erano state trovate delle sostanze inquinanti che all'inizio si pensava che derivassero dalla cisterna del gasolio, poi invece si è visto che la cisterna era intatta ma c'erano idrocarburi anche in profondità maggiori e quindi poi si è scoperto che c'erano delle vecchie cisterne che erano state danneggiate e quindi erano stati sospesi i lavori di bonifica perché servivano ulteriori fondi. Una situazione complessa a cui il comune non era in grado di far fronte con autonome risorse, la richiesta avanzata ai primi di maggio è stata soddisfatta con un importo pari a mezzo milione di euro. Come d'abitudine, conclude Bottacin, le scelte sono state fatte sulla base di evidenze scientifiche seguite dai nostri uffici e rafforzate anche dalle analisi presenti nell'anagrafe dei siti contaminati predisposta da Arpav.